L'assassino Reoconfesso di Giuseppe Matina, il quarantenne Favarese, rivenditore di auto usciso venerdì sera in un magazzino di Contrada San Benedetto ad Agrigento, resta in carcere. Il GIP del Tribunale di Palermo, Vilma Mazzara, ha convalidato l'arresto di Giovanni Riggio, 27 anni, originario di Palermo e residente a Favare, ed ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'indagato stava avviando un'attività di rivendita di auto usate, servita anche da un'officina con la vittima. Venerdì Riggio avrebbe avuto un incontro con Matina proprio perché, stando alle stesse ammissioni del 27enne, gli doveva dei soldi. Durante l'udienza di convalida l'indagato, che difeso dagli avvocati Marco Martorane e Santina Sonia Caniglia, ha reso davanti al GIP un nuovo interrogatorio. Di fatto il palermitano ha ribadito e meglio spiegato quanto aveva già raccontato durante l'interrogatorio al commissariato Brancaccio di Palermo, dove alle 4 circa di sabato si è autonomamente costituito. Per avviare l'attività, Matina mi aveva detto che aveva chiesto dei soldi e degli usurai. Avrebbe raccontato ieri Riggio secondo quanto ha ricostruito il legale Martorana. I due dunque, stando alle dichiarazioni del 27enne, si sarebbero accordati sul fatto che Riggio ogni mese avrebbe restituito la somma di 550 euro per saldare il prestito. Matina mi accusava di essere già pesantemente esposto per avviare l'attività di rivendita di macchine e voleva soldi da parte mia. Gli ho detto venerdì che non avevo soldi. Questo, grosso modo, sempre secondo quanto viene riferito dal legale difensore, quello che il 27enne palermitano avrebbe detto davanti al GIP, ha minacciato me, mia moglie e mia figlia, scagliandosi contro di me. Ho afferrato la prima cosa che ho trovato, un coltello da cucina e l'ho colpito. Riggio inoltre, sempre ieri, avrebbe cercato di spiegare il perché il cadavere di Matina sia stato trovato con le gambe legate da nastro adesivo. Ho cercato di spostarlo da dove si trovava, avrebbe detto l'indagato. Doveva uscire dal magazzino con il furgone, il cadavere era davanti. Per spostarlo rapidamente gli ho legato le gambe con il nastro adesivo. Ed anche il nastro adesivo, oltre al coltello da cucina e vestiti sporchi di sangue, il 27enne ha portato con sé e consegnato ai poliziotti del commissari creato Brancaccio quando si è costituito. Ma prima di andare a Palermo, il giovane palermitano è andato a casa sua a Favara, si è lavato e cambiato, ha messo i vestiti sporchi in un sacchetto e si è diretto verso casa dei familiari di Palermo e poi al commissariato. Il PM, ieri a margine dell'udienza di convalida, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, la difesa dell'indagato si era invece opposta perché non c'erano i requisiti in quanto riconfesso ed in quanto le prove erano già state acquisite. A quanto pare, adesso tutti gli incartamenti di Palermo passeranno alla procura di Agrigento che è competente, visto che il diritto è stato consumato nella zona industriale al confine tra la città dei Templi, Favara e D'Aragona. Il PM di Agrigento, titolare del fascicolo d'inchiesta, Matteo Delpini, ha intanto informato le parti che stamani conferirà l'incarico al consulente tecnico medico legale per effettuare l'autopsia sulla salma del commerciante favarese. L'uomo venerdì sera è stato freddato con diversi colpi di coltello all'addome. Spetterà all'autopsia specificare quanti siano stati colpi inferti. La famiglia della vittima ha già nominato come difensore l'avvocato Salvatore Consumano che a sua volta designerà i propri consulenti tecnici di parte per prendere parte all'atto irripetibile dell'autopsia. Grazie. 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 Grazie.